Oh, le Italians do it better! Gli italiani lo fanno meglio e quindi io ho deciso di invitare qui in questo programmino un italiano che lo fa meglio in Italia, in giro per il mondo. Roy Paci! Ciao! Seduti, comodi. Secondo me per imparare lo strumento ci vogliono veramente, ci vogliono tante ore da dedicare al giorno, per tanti anni. Sì, perché poi da ignorante, da esterno, si sottovaluta magari lo strumento della tromba, ma delle caratteristiche, devi fare delle cose veramente difficili. Una volta ho trombato? Ho trombato, ho detto! Solo una volta? Ho detto una volta ho trombato! Beh, capitolo solo una volta così, alteria, cioè, non è... Una volta ho provato la tromba, oddio! Vabbè, non ce l'ho fatta nemmeno a provare la tromba. Vabbè, non ce l'ho fatta nemmeno a provare.